Sentiamo se Giovanotti, dai, è in diretta, sentiamo se Giova è qua, dai, Giova, dai, sei in diretta, vuoi fare un saluto, dai, a tutti gli amici, vuoi dire qualcosa? Eh, ciao ragazzi, ciao, ciao, sono qua, sì, abbiamo fatto un grandissimo festival di Sanremo, è stato grandissimo, grande, grande, grande Gianni, sei stato fortissimo, bravissimo, sei stato... Bene, grazie, veramente, bravissimo, dai, sai che sono contento stasera di essere qua anche, l'avete visto Sanremo, dai, no, io non l'ho visto, come l'avete visto Sanremo? Mi dispiace, come l'avete visto Sanremo, dai, ieri sera, sai che ho vinto con Giovanotti la cover, le cover, sai cosa sono le cover, no? Certo Eh, dai, e allora, lo sai, però io la prima sera sono sceso, ero un po' emozionato, poi sai la prima, tu l'hai visto Sanremo? Sì, eh La prima sera c'era il mio amico Amadeus, che ha presentato con Lornella Muti, dai, questa grandissima artista, solo che era un po', era un po' di legno, era affero, era meglio se mettevano Riccardo Muti, almeno si muoveva un po' con le, dirigeva l'orchestra, E poi uno che, tra l'altro, se si arrabbia e si incazza, lui è uno che bacchetta, eh, infatti, davvero, alla scala, mi hanno detto i musicisti che hanno sempre tutte le mani piene di lividi, Poi Riccardo Muti, lui è uno che, veramente, è un igienista, lui quando va al ristorante cinese, prende le sue bacchette personali, per mangiare, dai, comunque, dai, torniamo noi, io so che stasera, qua, in questa grande serata, con queste mie, fatemi sentire con un applauso Ciao, 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 ciao ragazzi, ciao